Tenda in francese Tende, Brigasco Tenda in Ligure Piemontese, è un comune francese situato a 816 metri sul livello del mare nel dipartimento delle Alpi Marittime nella regione della Provenza Alpi Costa Azzurra, i cui abitanti sono detti tendaschi. Nei pressi di Tenda si trova il sito preistorico conosciuto come Valle delle Meraviglie, Valle des Meraviglie in francese, di primaria importanza per le numerose incisioni rupestri risalenti con ogni probabilità all'età del bronzo. Fu ceduta dall'Italia alla Francia insieme alla maggior parte del territorio della vicina briga marittima dopo la seconda guerra mondiale in virtù del trattato di Parigi del 1947, sebbene il comune faccia parte della regione geografica italiana trovandosi all'interno del bacino ideografico del fiume Roia. La storia del comune è intimamente legata a quella dell'omonima Contea della quale Tenda fu per secoli il capoluogo. Il territorio ha fatto da sempre parte della Liguria, sotto l'impero romano, nel regno Logobardo e nel regno Umitalie, formatosi con Carlo Magno. Citata a partire dal 1000 con il suo nome italiano attuale, Tenda, era al tempo dipendente dalla Contea di Ventimiglia. Nel 1261 Guglielmo Pietro I di Ventimiglia, signore di Tenda, sposò Eudossia Lascaris, sorella dell'imperatore bizantino Giovanni Lascaris. Così dal 1200 al 1500 Tenda appartenne alla famiglia Lascaris di Ventimiglia, fino a che nel 1509 passò per matrimonio ad un principe di Savoia, Renato di Savoia Villars, il cui ramo però si estinse nel 1754 e la Contea passò pertanto ai Savoia del ramo principale, ai quali rimase sino al 1946, fatto salvo il periodo della rivoluzione francese e quello napoleonico, durante i quali fu soggetta alla Francia. Per limitare l'isolamento dell'alta Val di Roia e potenziare il collegamento tra la pianura padana e il Mar Ligure, tra il 1878 e il 1882 fu costruito il traforo stradale del Colle di Tenda. Il miglioramento della rete di comunicazione favorì la nascita di nuove iniziative economiche, come piccole officine e due centrali idroelettriche. Queste nuove realtà andavano così ad affiancarsi a tutte quelle attività tradizionali come la pastorizia e l'estrazione mineraria di blenda, cioè galena argentifera, pietra verde e sabbia quarzifera. I grandi lavori pubblici che interessarono la Val Roia nella prima metà del 1900 ed il conseguente arrivo nel 1913 della ferrovia proveniente da Cuneo favorirono l'apertura di alberghi e ristoranti dando il via ad un primo sfruttamento turistico delle bellezze naturali dell'alta Val Roia. Nel 1928 la ferrovia fu poi interamente completata, consentendo i collegamenti ferroviari sia con il Piemonte che con la Liguria e Nizza.